A Pescara c'è questa vicenda che riguarda le divise della Polizia Municipale che sarebbero nei magazzini inutilizzate. Anche qui il Movimento 5 Stelle vuole vederci chiaro fino in fondo. Sì, questa è una situazione paradossale gravissima a nostro avviso perché sembrerebbe che un ufficiale della Polizia Municipale abbia firmato una bolla di consegna, un documento di trasporto per tanto materiale, diverso materiale, divise, centinaia di divise. Ma materiale che non è mai arrivato, è arrivato solo parzialmente alla Polizia Municipale. Quindi che sta accadendo? Sta accadendo che la dista fornitrice in base a quel documento di trasporto sta rivendicando il pagamento dell'intera somma. Pagamento di una somma per un materiale che non è mai arrivato. Quindi qui stiamo di fronte, qualora si dovesse appurare, accertare quello che abbiamo appunto denunciato, siamo di fronte ad un possibile danno erariale. Quindi noi chiediamo di approfondire, chiediamo di far chiarezza e vogliamo sapere se ci sono responsabilità erariali. Non solo. Dato che questo materiale non è arrivato, il capotelato speciale d'appalto prevedeva anche una sanzione, una mora per ogni giorno di ritardo. Non è stata applicata neppure questa norma, questa mora. E quindi siamo di fronte a un ulteriore, dove è confermato, un ulteriore danno erariale. Questa è una situazione allucinante che potrebbe configurare anche reati penali, non solo contabili. E quindi credo che l'amministrazione comunale debba farsi subito carico. Abbiamo apprezzato l'intervento dell'assessore Adelchi Sulpizio, che dice di voler fare chiarezza e dice di aver chiesto una relazione alla Polizia Municipale. Aspettiamo questa relazione, ma in tempi brevi, in tempi brevissimi. E c'è anche una interrogazione nostra depositata al sindaco di Pescara.